Ragazzi prima che inizi il video sappiate che siamo in live su Twitch alle 14.30 quindi se state vedendo questo video circa l'ora della sua uscita a brevissimo per proseguire con Pokémon Platino con solo Shedinja L'inizio della challenge è andato in un certo modo e per certo modo intendo dire che ho dovuto evsare Shedinja per un sacco di tempo quindi quest'oggi sarà da divertirsi Vi aspetto ma vi lascio anche a questo video Ultimamente su questo canale abbiamo parlato molto di dati e numeri riguardanti il mondo Pokémon Non tanto di quelli visibili dall'esterno come potrebbero essere le statistiche o il danno e la precisione delle mosse Quanto piuttosto di quelli interni, quelli che il gioco non ci comunica Probabilità di incontri, catch rate, personalità Ricordiamoci che parliamo sempre di videogiochi e che ogni cosa che eseguiamo o che vediamo all'ora interno è determinata in ultima analisi da cifre Oggi però voglio fare qualcosa di più curioso Voglio infatti cercare di determinare quale sia il Pokémon con più punti salute in assoluto Ma soprattutto scoprire quant'è il limite massimo di PS che un Pokémon potrebbe avere E più in senso generale cercare di comprendere il significato di quel valore La mia curiosità circa questo argomento però non è nata per così dire ex Nilo Non si è generata dal nulla Già perché dall'ottava generazione, cioè quella corrente È possibile una cosa che precedentemente nemmeno con i famigerati codici era concepibile Andare oltre i 999 punti salute Ora fino alla settima generazione, dunque fino a Pokémon Sole e Pokémon Luna Non era possibile nemmeno tramite GameShark o Action Replay andare oltre a questa soglia di PS Era certo possibile rendere invincibile il proprio Pokémon resettando continuamente la barra Ma graficamente il gioco ci avrebbe sempre presentato 999 PS Dal 15 novembre 2019 però non è più così grazie all'introduzione della meccanica della Dynamax Benché infatti di norma nessun Pokémon sia in grado anche solo di avvicinarsi al limite di 999 punti salute Tramite la Dynamax in particolari condizioni e badate bene solo per un limite di 3 turni consentito È possibile sforare quel limite Con queste premesse direi che è giunto il momento di chiarire il funzionamento di tale meccanica nel rapporto con i punti salute Come abbiamo recentemente appreso la meccanica della Dynamax unitamente alla Gigamax Porta non solo a uno stravolgimento fisionomico del Pokémon sia esso legato alle dimensioni o a modifiche delle apparenze più marcate Ma anche ad un aumento dei punti salute massimi Benché questa sia l'unica statistica a venire modificata mediante il fenomeno Dynamax Era anche curiosamente l'unica precedentemente a questa meccanica non beneficiale di alcun tipo di bonus in battaglia Mi spiego meglio Le statistiche dei Pokémon sono 6 e sono punti salute, attacco, difesa, attacco speciale, difesa speciale e velocità Le loro meccaniche intrinseche sono analoghe Tutte 6 possono infatti essere evsate e possiedono i VS Che ad oggi specialmente i Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono facilmente manipolabili dei giocatori all'interno del gioco stesso Per far sì che il Pokémon tiri fuori il potenziale richiesto dal giocatore competitivo Già però in fase di building ci si rende conto che tra i punti salute e le altre 5 statistiche A fronte di una base comune tra queste ultime vi sono anche delle differenze sostanziali Le nature infatti che sono fondamentali in ambito competitivo per permettere di maxare una statistica a discapito di un'altra Non si applicano in alcun modo ai punti salute Che in questo senso non possono ricevere alcun tipo di bonus Legato probabilmente a questo aspetto è anche il fatto che durante una battaglia Nonostante per le altre 5 statistiche sia molto ricorrente l'aumento delle stesse Tramite abilità o mosse particolari Fino all'ottava generazione per l'appunto non vi era invece alcun modo per aumentare in battaglia i PS Che dunque non solo non potevano andare oltre il limite imposto dalla fase di building Ma durante un combattimento potevano solo diminuire o nel migliore dei casi recuperare il danno subito Per intenderci nemmeno fuori dal competitivo l'aumento dei PS era concepibile Tanto che esistono come strumenti dell'avventura gli attacchi X, le difese X, gli special X e le velocità X Ma non esiste un PSX Mi rendo conto di aver particolarmente divagato sulla sfera competitiva Ma questo è per farvi capire quanto l'inserimento del Dynamax e la possibilità di aumentare i PS oltre il limite Sia stata rivoluzionaria anche in ambito competitivo Tornando però a noi come e soprattutto quanto la Dynamax aumenta i PS dei Pokémon A questa domanda ad oggi risponde il livello Dynamax Un valore su una scala di 0 a 10 che determina la percentuale entro la quale crescerà la statistica E anche in questo caso parliamo di un valore facilmente manipolabile dai giocatori all'interno del gioco Mediante le caramelle Dynamax Con un livello Dynamax pari a 0 un Pokémon una volta assunta la sua forma Dynamax Riceverà un incremento dei PS totali che sono determinati da una combinazione di punti delle statistiche base Effort values e inner values pari al 50% Da qui in poi ogni unità aggiunta al valore del livello Dynamax porterà un incremento ulteriore del 5% Quindi ad esempio il livello 1 porterà un 55% totale di accrescimento dei PS Fino ad arrivare con il livello 10 ad un accrescimento pari al 100% In sintesi al massimo delle sue capacità la Dynamax è in grado di far raddoppiare i punti salute di un Pokémon Tale momento chiaramente non si applica solamente ai punti salute massimi Ma anche a quelli che per l'occasione chiamerei punti salute effettivi Cioè quelli che un Pokémon possiede al momento della trasformazione E che possono essere minori dei PS massimi Così se un Pokémon con 500 punti salute massimi dovesse Dynamaxare con dei punti salute effettivi pari a 100 Il risultato sarebbe quello di ottenere un Pokémon con 1000 PS massimi e soli 200 PS effettivi Come avete potuto notare per sforare il tetto dei 999 PS è sufficiente possederne 500 come base Ora esistono svariati Pokémon che rispondono a questo requisito Ma è anche vero che non tutti hanno accesso alla Dynamax dato che almeno per ora non tutti sono presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo Ma questo ad oggi ha molta meno importanza perché con la prima espansione del DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo È stato reinserito Blissey Il Pokémon con il maggior numero di PS esistente Oddio in realtà in ottava generazione Blissey riceve pane per i suoi denti Già perché se è vero che Blissey raggiunge la paurosa cifra di 255 punti salute base È altrettanto vero che almeno tecnicamente esiste un'altra creatura in grado di raggiungere un tale valore Il problema è che altrettanto tecnicamente questa creatura sarebbe difficile definirla Pokémon Parlo ovviamente di Eternamax Per chi non fosse ferrato Eternamax o se preferite chiamarlo all'italiana Dynamax infinito Non è altro che la forma che Eternatus assume una volta assorbita l'energia Dynamax di Galar Questa creatura, la cui natura è stata più volte teorizzata su questo canale Nei fatti è il Pokémon più potente di sempre Con un totale di statistiche base che raggiunge la cifra di 1125 Ciò che però a noi interessa è il fatto che i PS di questa creatura hanno come valore base 255 Ossia identico a quello di Blissey Su molti portali viene riportato come ad oggi i due Pokémon si contendono il titolo di Pokémon con più PS in assoluto Ma ciò è falso non solo da un punto di vista pratico in generale Ma anche da uno specificatamente teorico se andiamo a considerare l'effetto del Dynamax Ora ottenere Eternamax per il giocatore è impossibile A meno che non si vadano a modificare i codici di gioco E dunque ciò sotto un profilo pratico ci mette davanti a dei problemi Normalmente Eternamax infatti è affrontabile alla fine della trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo a livello 70 Ed essendo questo l'unico incontro possibile non potendo poi riprodurre la forma del Pokémon È di fatto impossibile portarlo a livello 100 Cosa che al contrario è perfettamente fattibile con Blissey E legato allo stesso problema è la questione degli effort values Essendo infatti esclusivamente selvati Qual più Eternamax può possedere delle EV stellare in PS Ma mai degli EVS Dato che questi sono determinati naturalmente da quali Pokémon Un altro Pokémon sconfigge sotto il controllo di un allenatore Ciò detto escludendo la pratica e dunque sotto un profilo meramente teorico Un Eternamax a livello 100 perfettamente EVSato e con i V stellare in PS Può ugualiare Blissey Ma se noi considerassimo nel nostro ragionamento anche il Dynamax Ci troveremmo di fronte ad un altro problema Benché infatti ne abbia tutto l'aspetto Eternamax non risulta essere una forma Gigamax di Eternatus E perciò non risente del raddoppiamento di PS che la Dynamax tradizionale scaturirebbe Anche perché il livello Dynamax di Eternatus nonché quello di Eternamax Se ottenuto illegalmente non è modificabile Per far sì che Eternamax possa raggiungere dunque Blissey al suo massimo potenziale Non solo è necessario ottenere tramite mezzi illeciti questo Pokémon Ma è anche necessario far sì che Eternamax possa Dynamaxare E allo stesso tempo permettere al giocatore di modificarne il livello Dynamax Insomma solo una serie di passaggi illeciti può far sì che Eternamax possa effettivamente competere con Blissey Dato che quest'ultimo con una statistica di PS al massimo nella sua forma base E con un livello Dynamax che induce i PS a raddoppiarsi una volta assunta la forma Dynamax Raggiunge la paurosa cifra di 1428 PS Ma non solo Perché Blissey è sicuramente il Pokémon con il più alto numero di PS di sempre Ma è anche molto probabile che manterrà il suo primato per sempre 255 punti salute massimi infatti non è un numero casuale ma un altro limite Un limite oltre il quale nel campo delle ipotesi un Pokémon potrebbe sfuggire alla Master Ball E dunque rompere uno dei canoni più tradizionali del mondo Pokémon Ammesso che in futuro non vi sarà un'altra meccanica con gli effetti della Dynamax E anzi con effetti maggiori della Dynamax È molto probabile che 1428 resti il limite massimo di PS che un Pokémon può raggiungere Un limite valicabile solo al prezzo di non rendere più infallibile la Master Ball E dunque qualora un giorno Blissey dovesse perdere il proprio primato È molto probabile a meno di una funzione più forte della Dynamax Che ci si troverà anche davanti al primo Pokémon della storia in grado di sfuggire alla Master Ball Bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale E prendete la campanella per ricevere ogni giorno i feed Detto già ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video Ciao! Ciao!